Venerdì 9 e sabato 10 novembre 2012, alla Gran Guardia di Verona, si è tenuto il secondo incontro degli utilizzatori italiani di Sirona su odontoiatria digitale e paziente reale, in pronta ottica CAD-CAM, radiologia 3D, virtual patient. Le ultime novità delle tecnologie digitali alla risposta sull'odontoiatria diretta basata sull'impronta ottica, la possibilità di incontrare i maggiori esperti nell'utilizzo di CEREC. Durante i lavori sono intervenuti alcuni tra i più esperti relatori in tema di nuove tecnologie applicate all'odontoiatria e all'odontotecnica. La maggiore efficacia della comunicazione tra studio e laboratorio con Sirona Connect è l'argomento trattato dal dottor Giuseppe Cuneo, esperto di odontoiatria digitale, in collaborazione con l'odontotecnico Franco Petretto. Il rapporto tra odontoiatria ed odontotecnico, da sempre conflittuale e controverso, è stato messo a dura prova dalla sempre maggiore diffusione della sistematica CEREC, che consente al medico la realizzazione diretta di manufatti protesici. Attraverso la presentazione di alcuni casi, sia nella parte clinica che laboratoristica, è stato mostrato che, invece, queste nuove tecnologie offrono anche la possibilità, tramite la ripresa di impronte ottiche trasmissibili per via telematica, di ottimizzare la comunicazione tra studio e laboratorio, rendendola più immediata ed interattiva e creando una connessione virtuale tra le due strutture. Grazie a tutti!